Qualunque cosa, entra qui giù Molto bene Io sono con Paolino Ah, ci sono anche due miei E non è buono Giuseppe, aspetta un attimo che ti lascio un beautiful torcerino Qui c'è mezzo panino e mezza... Ok Guarda, io da dietro mi sono preso una torcia e sono scappatevi Ok, andiamo Chi sarà? Chi sarà? È arrivato È sotto, sì Stai mettendo il piede in faccia a questo qua a terra, poverino C'è uno a terra Guarda qua sotto di te Ai tuoi piedi Ah, perfetto Mi hai messo il piede in bocca, guarda, è uno schiavo proprio Guarda, guarda, Emilio Beh, ci vogliamo dare da fare ragazzi per uscire Da questa mappa Ok, qua c'è una... Oh No, io do io tutto C'è uno spirito che c'è a terra i maledetti sti cazzo No, è la cosa, cioè il perk della piaga dei generatori chiusi Bloccati Vuoi far vedere? Eh, voi Ma come fa ragione? Ah, bruttissima La culona, fa la caccona Nel culo, non si sprona Ok, ok, è proprio la piaga, ho visto la fontanella Eh, già l'abbiamo rinominata in un modo più figo La piaga Io sto sul generatore, eh, si è aperto Ok Troia 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 Tu sei salito sopra? c'è come c'è una cieca vent'ora che sono entrato dentro l'arma dietro non so perché a posto è una cosa nuova dell'area di ragazzi non vedi niente fammi passare c'è una cosa fississima che non avevo mai fatto cioè stunnare il killer con quel pallet che sta dicendo ragazzi comunque ufficiale quando entri gli armadietti adesso c'è lo status c'è ok ma non cazzo questo bruttissimo così perché non era abbastanza difficile uscire dalla mi chiamo sempre addosso ragazzi aspettate eh vati, levati che ci infetti tutti no, 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 no Se l'avessero saputo i popoli del passato che bastava una sciacquata d'acqua per togliersi le malattie... Nooo! Mi sono sacrificato per aver preso la scuola... Credo che mi abbia perso ragazzi... Come? Credo che mi abbia perso... Adesso ha bevuto nel culo di cane... No no no... Il culo di cane nooooo! Mi ha perso perchè io ho finito il generatore... Ok ragazzi, quando sei in una... Un bug... Non aumenta... L'infezione... Che significa quando sei in un bug? Mi sta aumentando l'infezione... Quando entro nell'armalietto si ferma... Sta seguendo qualcuno? Si, meglio adesso caio... Ma sta ancora vomitando schifo il mane? Si si, l'ho schifo in male... Adesso guarda... Adesso vado su... Cioè di mucina... Quei fatti... E io mi ti devo curare ragazzi... Eh che ragazzi... Questo ufficialmente è il killer troll... Lo dobbiamo capitare addosso... Vabbè questo... Io mi... Ti devo curare eh... Ok... Ok... Check in seguito... Ok... Io mi tiro... Il momento più migliore è quando curarsi... Durante il seguimento... Eh certo... Perchè... Lei si deve fare prima tutto nel seguimento... Poi deve venire... Ok... Ok... Ma ragazzi... Ma in tutto questo... Lei sta anche passando il raggio di te della gente? No... No... Non penso... Cioè... Non c'è nei piazzini alti... Quasi fatto ragazzi... Lo stavo facendo io... Si... Ci sono io... No... Emilia... Penso che sia... L'ossessione... Eccola... E non vedo un'ossessione in questa partita... Traia... Ok... Ok... Questa cosa... Oh... La differenza... Vabbè dai... Eh ma... Questo è uno... Un... Uno scarso... Occhio... Oppure... Il gioco... Ha un po' rallentato... Questo qui... Mmm... Uh 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 uh... Stavo intendo tutto questo... Emilia... Che stai a fare? Oh... Emilio... Che stai a fare? Eh... Sto un po' camperando Paolo... Ok... C'è un ragazzo vicino a me... Però... Lei non è affidabile... Cerco di fare l'ultimo gen... Ragazzi allora... L'ho trovato... Piano di sopra... Aia... Aia... Ok... Ho appena cominciato l'ultimo gen... Ok... La pista... Vi sta seguendo... Fissate... Ah... C'è la tanatofobia... Quindi ok... Te ne troppo mia... Ma cazzo... Però... Giacomo... Qual'è il... Quale è il... Quale è il... Aspetta il secondo... Sto la seguendo Paolo... Ah... Paolo... Ma non stai la seguendo più... No... No... Piano di sopra... Accanto a una scala... Io provo a fare quello l'eccesso... Se trovo quello l'eccesso... Dove... Lo so... Piano di sopra... Ah... E' a zero... Ah... Andate a salvare Mia Carlson... Ragazzi... Io qua... Quasi venito... Sto a 60%... Ok... Aspetta... Due mille... Che io sono già... Aspetta... Su un eccesso... Si sta quicinando... No... Sto arrivando... Sto andando... Sto andando... Ragazzi... Il jam è quasi fatto... Ahia... Merda... 3... 2... 1... Uscite... Uscite... Sto prendendo l'uscita... Quella penso più lontana dal jam... Noi siamo a quella più... Ok... Io sono con te Paolo... Ah... Il Lenium è stato preso... Stami lontano Jack... Stami lontano... Ma... Eh... Non sono infetto... Ci sono delle scorreggette... Vedi... Guarda... Guarda... Vedi... Non ti infetto... Vedi... Ok... L'uscita è aperta... Vabbè... Dai... Ce l'abbiamo fatta... No... Ragazzi... È su di me... Adesso... Vedetevi ad aiutare... Gio... Ti salva i miei... Io vado a salvare... Per la signora... Ok... Sono stato preso... Porca puttana... No... Ma quella sta nel basamento... Mi è... Eh... E sta venendo nel basement... Braga... Hmm... Borro Time... No... Borro Time... Perché Borro Time non ha funzionato? Stanno arrivando... Jack... Via dei colpi... Dove devo andare? Vai... Sali... Sali le scale... Sopra... 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 E poi 180 gradi indietro... Sopra... Bene... Sali... Sei qui... Ok... Però... Millennium sta... A terra... Beh... No... No... È morto... Ma... Scusate... Il Borro Time non ha funzionato... Vittoria... Mi sembra... Non so... Non so... Perché... Ma è più spoglio qua ragazzi... Sì... Ma che mi è perso... Non ci sono le cose... Guarda nell'angolo... I barili... Che bello... La PTB è rotta... Molto bene... Prima vittoria contro... Questo schifo ignobile... Stai scrivendo che c'è il Borro Time... Sì... Sì...